Siamo nella sala consigliare del Comune di Bari e tra un po' ci accingiamo a celebrare la 23esima edizione del premio del Nicolino d'Oro. Ma prima di questa celebrazione ce n'è un'altra ancora più semplice ma importante, qual è la consegna delle giacche a 5 panificatori dell'associazione panificatore della provincia di Bari che si sono distinti, hanno vinto dei premi come il panificio fiore, la miglior focaccia d'Italia, la miglior pizza e così via. Saranno premiati con questa giacca particolare dove c'è lo stemma del Comune di Bari, quindi il Comune di Bari darà loro questa giacca con l'effigie dell'insegna della città. Il significato di questo premio che mi sta dando l'associazione panificatore per me sono molto orgoglioso, ringrazio tanto l'associazione di avermi premiato e chiaramente porterò sempre la nostra focaccia barise in tutto il mondo. Per me avere avuto questa giacca, questo riconoscimento nella terra di Bari è importantissimo perché sono generazioni che facciamo un prodotto tradizionale e la ciliegina sulla torta sul lavoro di tanti e tanti anni fatto con molto sacrificio. Per me rappresentare la terra di Bari nel mio lavoro è importantissimo perché mi distingue da quella che è poi la massa comune della produzione panificatoria e mi dà una caratteristica in più che è quella proprio del territorio, della terra di Bari. Quindi averlo adesso addosso è un grande onore. Per me rappresentare la terra di Bari.